Eurek è una fiera della cultura e della creatività e che fa incontrare le imprese culturali e creative con le imprese tradizionali. Tanti incontri per scatenare collaborazioni e momenti di sviluppo per entrambi, sia per le imprese tradizionali sia per le imprese culturali. È significativo che si svolga in un territorio come Pordenone dove imprese e cultura si sposano, procedono di pari passo e non è così scontato che succeda. In altre realtà si guardano con diffidenza. Qui invece è stato creato un sistema, un ecosistema in cui appunto mondo del lavoro, mondo dell'impresa, cultura, creatività si uniscono. A raccontare per chi ancora non la conoscesse cos'è Eureka è Alberto Parigi, vice sindaco reggente di Pordenone. Si tratta della Fiera Nazionale della Cultura e della Creatività, aggiunta alla sua seconda edizione. Un'edizione che si svolge alla Fiera di Pordenone nei padiglioni 5 bis e 5 ter nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 ottobre. L'obiettivo della Fiera è quello di unire gli operatori culturali e creativi che cercano di collaborare con imprese o start-up del settore. Un luogo in cui appunto creare incontri e opportunità. È la rappresentazione delle qualità di questo territorio che unisce dal lato la cultura di impresa, che ha generato grande ricchezza, una serie infinite di piccole e grandi aziende e dall'altro lato dalla cultura tradizionale, cioè ha alimentato un tessuto culturale fatto di contenitori, di teatre, di manifestazioni e di eventi che molti ci invidiano. In realtà i due settori vanno di pari passo perché anche le aziende, se vogliono stare a passo con i tempi, hanno bisogno di tecnologia, di innovazione, di fantasia, di creatività e di cultura. Quindi questo è un territorio piccolo, unico, che però ha grandi caratteristiche. Un'idea sostenuta e realizzata grazie anche al decisivo supporto della Regione Friuli-Venezia-Giulia. La Regione ha un obiettivo per il futuro, che è quello di contribuire a creare un luogo dove sia più bello vivere per i suoi cittadini e per chi ci viene a cercare. La cultura è un formidabile strumento per raggiungere questo obiettivo e in particolare sul concreto iniziative come questa, che coinvolgono imprenditori, imprese del settore della cultura, permette di seminare quelle basi che servono per una stagione di rinascita culturale, che ha in artisti e artigiani la necessaria base per una programmazione culturale di valore.